Con ben 17 punti sul terzo posto, occupato dalla Folgore Alfino Curi Pescara, il Giulianova non ha alcuna intenzione di lasciare punti per strada e vuole chiudere il campionato con 10 vittorie consecutive per approdare al meglio gli spareggi nazionali. La nostra è una rosa importante, è una rosa forte e appunto questo gli ho detto ai ragazzi, ho detto che in questo periodo, anche negli allenamenti stessi, mi devono mettere in condizione di far scegliere quelli che stanno meglio. Quindi voglio vedere gente che ha voglia proprio di giocare. Negli sfogliatori ha detto qualcosa ai sui ragazzi perché sono rientrati in campo con un altro piglio? L'ho detto soprattutto anche perché i pre-off non erano acquisiti matematicamente, per cui non ci potevamo permettere di non vincere quella partita. Ma come anche a Celano, anche l'ultima in casa con la Sente G10, dobbiamo onorare il campionato, dobbiamo dare ritmo alle nostre giocate senza avere momenti di relax. Anche perché poi ci sarà un mese di stop, praticamente il 26 maggio dovreste giocare l'andata e chiaramente rispetto allo scorso anno state studiando una nuova strategia proprio per capire cosa non è andato 12 mesi fa? Io l'ho vissuto con la squadra l'anno scorso e ti devo dire che in quel periodo ci siamo allenati benissimo. Però poi la partita, magari ogni partita prende una strada a sé, non è questione di allenarsi o di concentrazione. Sicuramente vediamo di organizzare qualche partita importante, qualche amichevole importante proprio per non perdere il ritmo partito. Ci sono due due squadre che possono arrivare a fare i pre-off, quindi aspettiamo un attimino che le cose si sistemano e prendano la classifica giusta per poi organizzarci e vedere la squadra che andremo a incontrare.